3, 2, 1, via! Oh yeah! L'arma più la cosa della storia! La cosa che è in merda! Diciamo che lag causa! Incredibile! Attenzione al ralentatore! Schiva! Yeah! Schiva! 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 Schip! 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 Che lo rincorro! Nooo! rincorri rincorrilo vai 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 dai spara il colpo da rincorrilo rincorri dai scoppia prima vai in cielo eccolo lì missili nello spazio e si trattava dell'ottimo rpg 880 dei pion stomper che spacca i culi e aggiungerai anche un'altra cosa è possibile anche suicidarsi in autonomia facciamo un bel ricarichina spariamo il terreno ok ecco adesso proviamo proviamo un suicidio collettivo non guadagno abbastanza c'è una terra nooo ahahahah yeah ah non so abbiamo grazie a tutti